Guarda che bello, guarda. Eh? Io sono stato in viaggio di nozze qua. Sì. 4-5 anni fa. Però guarda, l'errore che si fa sempre. Risparmia, risparmia, risparmia. Cioè, passeggiamo a piedi. E sì, mia amore. Boh, la prima cosa che devo fare, mi devo fare il giro, a vero che costa quel che costa, però la caratteristica è quella, cioè, di Venezia. Se non ti fai il giro sulla vongola, che viene a fare? Ci vuole. Bisogna essere sincero, il giro sulla vongola ci vuole. Che cosa? La vongola. Che ne sai, che ne capisci tu? Per me che ne capisci. Sono stato qui. Di risparmio non andai, ma questa volta ci devo andare. Sulla? Vongola. Vongola. È convinto. È quella cosa lunga e nera che sta nell'acqua? Me? Quella è la vongola? Sì. Quella è la cozza? Ha ragione. Lunga e nera. Lunga e nera. È la cozza. Eh, va bene. Convinto. È scusa. È scusa. È scusa. È ecco la tua bravi.